Rapina di 15.000 euro all'ufficio postale di Maropati. Infatti ieri mattina in pieno centro a Maropati, gli uffici postali ubicati nella via Luxemburg hanno subito una rapina. Ieri infatti era inizio mese ed era giorno programmato di pagamento delle pensioni ed è per questo motivo che i tre al momento ignoti malviventi hanno agito con pesanti martelli con l'obiettivo di sottrarre dalle casse un gustoso bottino. Hanno spondato la vetrata di protezione e si sono impossessati di 15.000 euro circa. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione di Ferroleto dalla Chiesa e del comando stazione di Gioia Tauro che hanno recintato la zona per iniziare le indagini ascoltando anche eventuali testimonianze e verificando la dinamica della rapina attraverso la visione dei frame del sistema di videosorveglianza di esercizi commerciali vicini. Tanta paura tra i numerosi utenti e molti danni agli arredi interni.